benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi benvenute e benvenuti a molecole in scatola episodio zero il podcast del dipartimento di chimica dell'università di torino che esplora le sfide scientifiche e sociali a cui il nostro dipartimento è chiamato sono francesco turci docente di chimica generale in organica e oggi sono in compagnia di paola rizzi docente di scienza e tecnologia dei materiali e io insegno metallurgia nei nostri corsi di studio di scienza dei materiali metallurgia paola molto interessante mi sa che sarà un po l'argomento chiave di oggi sì esatto salve a tutte e tutti oggi quello che faremo sarà parlare di un argomento affascinante cioè l'influenza della diversità di genere nella ricerca scientifica e vorrei iniziare chiedendo a francesco se sa come mai ha fondato il titanic certo paola che so come ha fondato il titanic la nave ha urtato contro un enorme iceberg si è aperta una falla gigantesca nello scafo della nave e nel giro di poche ore la nave è affondata giusto in effetti anch'io ho sentito molte volte il racconto e mi ricordo molto bene di leonardo di caprio e kate winslet abbracciati sulla prova della nave giusto paola chi si le dimentica ecco mi sa che in quegli anni sognavi di essere kate winslet sul titanic o forse leonardo di caprio non sono non so comunque però forse non ci hanno raccontato proprio tutta la storia o almeno in quel racconto manca qualche informazione di metallurgia che ci potrebbe però spiegare come mai effettivamente ha fondato il titanic ma guarda paola che la spiegazione era piuttosto chiara nel film c'era una grande intesa tra i due ma alla fine non sapevano come rompere il ghiaccio scherzi a parte pensi davvero che la chimica e la scienza dei materiali insieme alla metallurgia possa aiutarci a scoprire qualcosa di più oggi ancora sull'accadimento tragico dell'affondamento del titanic sì certo come dico spesso ai miei studenti la metallurgia è fonte di ispirazione e quindi oggi ti voglio far vedere come la metallurgia ci possa spiegare qualcosa di più sul titanic e a questo punto anche sulle pari opportunità cavoli sono curioso davvero di sapere di cosa si tratta bene visto che sei curiosa a questo punto però vorrei tenerti un po sulle spine e quindi comincerei il mio racconto partendo da un po più avanti e quindi partendo dalla seconda guerra mondiale ok naufragio del titanic 1912 30 anni sono quindi serviti un sacco di spazio di ricerca e 30 anni sono tantissimi per comprendere qualcosa in più sulla fondamento del titanic esatto decenni di studi ricerca e appunto vorrei in realtà più che partire dagli studi vorrei partire dalla seconda guerra mondiale e perché in quel periodo naturalmente molti uomini erano in guerra e quindi c'erano alcuni lavori che non erano non avevano più nessuno che che li facesse e perché erano lavori tipicamente fatti da uomini e quindi le donne dovevano in qualche modo rimpiazzare queste posizioni che di solito non ricoprivano e questo era vero anche all'università e qui viene fuori Constance Tipper lei era una giovane ricercatrice amava molto la scienza amava i metalli e la metallurgia e quindi per passione passava le sue giornate in laboratorio nel dipartimento di ingegneria dell'università di Cambridge a studiare le proprietà meccaniche di leghe metalliche naturalmente lo faceva per passione invece che stare a casa a cucinare e quindi non era pagata ed era anche tenuta in poca considerazione dai suoi colleghi maschi cosa che forse non succede più certo certo paola guarda non escludo che queste discriminazioni esistano ancora in alcune occasioni perlomeno mi viene da dire che in questo momento storico alcune realtà stanno davvero provando a muovere alcuni passi nella direzione della rimozione di queste di queste situazioni di disparità rispetto al passato ad esempio mi sembra di poter dire che le donne non sono più sole nell'affrontare questo tipo di problematiche di tematiche importantissime giusto esatto però in effetti per tornare a tipper in effetti lei si trovò in quel momento essere la persona giusta al momento giusto perché il suo docente era andato appunto in guerra ed era l'unica che potesse rimpiazzarlo in quel momento perché in effetti era esperta in metallurgia perché stava facendo esattamente quel lavoro e quindi in pratica quello che successe a costa tipper e di continuare a fare esattamente il suo lavoro ma finalmente essendo riconosciuto quindi avendo finalmente una carica ufficiale quindi a quello che mi racconti la dottoressa tipper ha potuto ricoprire quel ruolo all'università di cambridge per una casualità perché tutti gli uomini in quel momento erano impegnati in guerra ho capito ma d'altra parte in effetti se ci pensi può essere anche interessante che un'occasione tragica come una guerra si riveli una occasione in cui la società porta avanti una evoluzione positiva come l'assunzione della dottoressa tipper a cambridge esatto questo in effetti è esattamente quello che è successo a cambridge in quel momento oltretutto il bello è che tipper continuò a lavorare esattamente in quello stesso laboratorio continuò a collaborare con i suoi colleghi ricercatori che erano lì in quel momento e allora quello che successe che insieme a loro riuscirono a risolvere un mistero che affliggeva le navi liberty queste navi erano navi che venivano costruite negli stati uniti e venivano erano navi cargo quindi venivano riferite di rifornimenti e dai mari caldi degli stati uniti andavano verso nord arrivavano in inghilterra e però spesso quello che succedeva che arrivate in inghilterra queste navi si spezzavano di schianto in due pezzi navi enormi spezzate in due parti sì esatto questa questa cosa viene descritta come lo scoppio di una bomba e in quel momento insomma in inghilterra se ne intendevano di bombe come è possibile che una nave enorme gigantesca che ha solcato l'atlantico arrivando in inghilterra si spezzi in due esatto infatti questo era un bel problema anche perché queste navi costavano non poco e comunque le derrate che venivano portate si perdevano in mare e quindi proprio per questo tipper e i suoi colleghi si impegnarono in questo senso a cercare di capire cosa succedeva e quello che scoprì tipper è che gli acciai a basso contenuto di carbonio che sono quelli poco costosi che venivano usati per costruire lo scafo delle navi hanno una transizione duttile e fragile questo vuol dire che a temperature basse tendono a spaccarsi in modo fragile come potrebbe essere il vetro di un vetro che si rompe quando tu lo urti si rompe in mille pezzi certo ho capito guarda vorrei essere un tuo studente adesso questa spiegazione ottima e quindi mi stai dicendo che il cambio di prospettiva che la dottoressa tipper aveva portato all'interno del laboratorio di cambridge che magari da decine di anni studiava fenomeni di rottura dei metalli è stata un po la chiave la scintilla di un'apertura a affrontare una problematica la stessa problematica con una prospettiva completamente diversa e quindi in effetti è la prova quasi no che la diversità il cambio di prospettiva la varietà di punti di vista sono la chiave che contribuiscono a migliorare la qualità della ricerca scientifica delle decisioni che un gruppo può prendere esatto in questo caso la storia di tipper ci dimostra proprio come la ricerca scientifica possa trarre vantaggio dall'avere al suo interno uomini e donne che possono lavorare in un ambiente collaborativo quindi in questo caso si è vista l'evoluzione tecnologica che è avanzata molto rapidamente quando si ampliano appunto le prospettive si incoraggia la diversità di visione certo certo molto interessante paola però però non mi hai detto ancora niente sulla vera storia che mi interessa il titanic hai ragione hai ragione in effetti cosa cosa è successo di recente alcuni ricercatori hanno preso parte dello scafo del titanic e hanno provato a vedere quali e quali sono le prove le proprietà meccaniche di questo acciaio e però l'hanno provate a temperature basse cioè a meno due gradi cioè la temperatura che doveva avere il mare nel momento in cui il titanic si è trovato vicino all'iceberg e cosa hanno trovato qui entrerà in gioco la nostra amica tipper esatto esatto vedo che hai fatto attenzione quindi in pratica quello che è successo è che lo scafo del titanic in effetti a bassa temperatura ha un comportamento fragile proprio perché era stato costruito usando uno di questi acciai a basso di contenuto di carbonio quindi a questo punto nel momento in cui si è trovato nelle acque fredde non era più duttile ma era fragile quindi è possibile che un urto anche lieve con l'iceberg abbia prodotto una falla molto più grande di quella che avrebbe avuto se fosse stata in acque calde e quindi questa falla era troppo grande e ha portato quindi inevitabilmente al disastro del titanic diciamo che adesso proprio grazie a tipper questa cosa non succederebbe più perché gli scafi delle navi vengono fatte con altri acciai che resistono alle basse temperature quindi il titanic la nave più costosa importante degli primi anni del secolo affondata probabilmente per un acciaio che non era adeguato alla traversata che doveva fare e allora grazie paola e grazie a tipper e a tutti quelli che hanno creduto in lei per questa meravigliosa spiegazione scientifica che combina metallurgia e storia navale parliamo però ancora un attimo paola di collaborazioni tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro è un tema interessante appunto che ogni tanto emerge quando parliamo di parità di genere e inclusione e il discorso relativo all'equoterosa no l'equoterosa sono sicuramente un elemento importante ma il timore da parte di alcuni e che possano generare un effetto contrario al motivo per cui sono vengono create dando ad esempio l'impressione che le donne non vengono poi più selezionate per l'eccellenza del loro merito eccetera ma per ragioni numeriche effettivamente ragione la questione francesco è piuttosto complessa sicuramente noi dobbiamo garantire che le donne vengano valutate per le loro competenze e non debbano essere discriminate in base al genere diciamo che le quote rosa sono state introdotte con una misura temporanea per cercare di evitare gli squilibri di genere però dobbiamo anche considerare che c'è una quota azzurra che è sempre presente in tutti gli ambiti e che non viene mai riconosciuta perché totalmente accettata dal sistema ok una quota azzurra che cosa intendi paola per quota azzurra allora cerco di farti alcuni esempi diciamo che nella nostra cultura la maggior parte delle persone si aspetta che un uomo sia più bravo di una donna ad affrontare delle questioni più complesse ti faccio alcuni esempi c'è qualcuno che non si farebbe mai operare da una chirurga donna oppure non andrebbe a cena in un ristorante stellato in cui c'è una chef anch'io anche se appunto in teoria dovrei essere libera da preconcetti ma a volte quando vedo l'autobus che è guidato da una donna un po' mi stupisco ancora un po' mi stupisco allora questa è di fatto la quota azzurra cioè tutti accettano e pensano che sia normale pensare che un chirurgo maschio è più bravo di una chirurga femmina e proprio per compensare questa quota azzurra che è di fatto nascosta e che dobbiamo e questa cosa è nascosta nella nostra mente non ce ne accorgiamo neanche e per questo che dobbiamo considerare invece una quota rosa che deve essere evidente a questo punto io spero che prima o poi la quota azzurra non esista più scompaia dalla nostra mente a quel punto non sarà più non sarà più necessario avere anche le quote rosa è molto interessante paola guarda non ci avevo veramente mai pensato ed è proprio quindi la storia di tipper no una eccezionalità che deve smettere di essere un'eccezionalità e in questo senso ogni individuo comporta e apporta un contributo una prospettiva unica e preziosa al mondo del lavoro al tavolo della ricerca scientifica all'avanzamento tecnologico e quindi forse quello con cui possiamo immaginare di crescere nel futuro è una prospettiva che garantisca a tutte le persone di potersi esprimere liberamente all'interno del proprio percorso scientifico e dare il loro massimo potenziale esatto esatto quindi in conclusione la diversità ci rende unici e uniche e speciali proprio come difetti in metallurgia conferiscono proprietà speciali ai materiali promuovendo l'uguaglianza di opportunità e il libero accesso alla conoscenza scientifica potremo affrontare le sfide future in modo più efficace e innovativo grazie paola com'è la storia dei materiali e dei difetti non lo capita bene in pratica questa è una cosa che ogni tanto usiamo i materiali metallici se considerassimo tutti gli atomi messi nelle loro posizioni di equilibrio e quindi un reticolo cristallino perfetto avrebbero non avrebbero proprietà non avrebbero le proprietà che invece hanno che hanno proprio perché hanno i difetti dei difetti quindi i difetti conferiscono il meglio delle proprietà ai materiali così anche gli esseri umani un illuminante punto di vista da metallurgista grazie paola per avermi aperto gli occhi sulle quote azzurre sui difetti nei metalli e spero che quindi il nostro dialogo abbia fornito spunti interessanti a chi ci ha ascoltato e che ci sta ascoltando e seguirà le prossime puntate grazie paola allora a questo punto anch'io voglio ringraziare tutti e tutte spero che vi sia piaciuta questa puntata che abbia che abbiate capito come mai è affondato il titanic e che abbiate capito che è importante avere una parità di genere e a questo punto vi invito a guardare la prossima puntata di molecole in scatola ciao ciao a tutti molecole in scatola è realizzato dalla commissione public engagement del dipartimento di chimica dell'università di torino dipartimento di eccellenza 2023 2027 da un'idea di francesca turco musico originali di filippo turci si ringraziano paolo mazzà ed il team ict per l'assistenza tecnica e shiva sale pur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale youtube del dipartimento sulla piattaforma podcast spreaker e su spotify ciao 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 ciao